buonasera amici benvenuti al salottino blues io sono paolino e questo è il format a ticket to ride inventato di sana pianta dal mio socio massimiliano zorzato e con lui insieme andiamo a cercare sempre grandi musicisti artisti in isola e oltre e stasera qui con noi abbiamo andrea de luca ciao andrea ciao a tutti ciao paolino grazie per avermi cercato e trovato caspita non è stato difficile perché poi su ti toc mi hai praticamente una sera ero un po tranquillo ero lì che scrollavo mi sei venuto su e sono rimasto folgorato da quello che ha fatto la lapsteel mi fa molto piacere mi fa molto piacere sì la lapsteel diciamo negli ultimi facciamo dieci anni diventata un po casa mia cavoli è un bel mondo è un mondo a parte un'altra cosa essendo salottino blues la lapsteel è proprio ci si va a pennello certo certo fantastico senti quando hai cominciato però tu a studiare chitarra no o qualche altro strumento prima ho iniziato a suonare la chitarra all'età di sei anni da solo da autodidatta come ho continuato per tutta la vita mia madre suonicchiava la chitarra diciamo mi ha insegnato tipo la minore mi maggiore poi ho fatto andare il cervello e le orecchie da soli coi dischi di papà e di mamma pure che mi facevano sentire grazie a dio io ho avuto la fortuna di svegliarmi le mattine con le pareti che tremavano perché c'era sulle zeppelin due insomma che per me a quell'età sono stati viaggi veri quelli senza nascondermi dietro un dito altro che psichiatria me ne è arrivata proprio una botta fantastica in quegli anni lì quando ero proprio nella mia crescita la pubertà l'adolescenza evviva nel senso meno male per fortuna per sì 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 le zeppelin mi viene in mente cashmere un pezzo pauroso un pezzo così e mi è venuto certo certo spesso parlo con amici che non sono musicisti diciamo no ascoltano musica eccetera allora quando appunto viene fuori discorso le zeppelin no mi rispondono sempre a sta per tu è quella certo certo però sei con quelle canzoni che sono rimaste un po nella memoria di tanti direi proprio sì meno male anche dai caspita ma sei in macchina cioè ti ho beccato mentre avevi appena finito di suonare quindi è già guarda è stata dura ma ce l'abbiamo fatta macchina carica devo ancora scaricare allo studio che è qui vicino un paesino qui vicino ma si va si va così no d'altra parte se non è così non funziona no infatti beh questo è anche il bello così pronti via roba easy senti io ho visto una cosa fantastica veramente fuori di testa ho visto che tu hai fatto fare o l'hai fatta tu l'hai fatto a fare una lap steel su uno skateboard si guarda lo sai com'è successo essendo la mia seconda casa ai social ho beccato questo ragazzo del nord dell'italia che si chiama gianluca ribellato da questa questo marchio diciamo di artigianato che si chiama garage for strings scritto col quattro e mezzo al posto di for e gli ho scritto dicendogli senti ho visto queste tavole da skate quattro corde ma tu saresti in grado di farne una sei corde lap steel ci siamo sentiti per telefono è stato tra l'altro veramente squisito e si è messo alla prova ha provato a fare una seconda me l'ha mandata direi che è andata benissimo come sperimento stiamo perfezionando insieme anche una racchetta da tennis anni 80 trasformata sempre lap steel non ci sono dei video anche di quella quella ancora tra l'altro è stata la mia prima signature model perché lui me l'ha dedicata ed è venuta con me a memphis allo scorso international blues challenge nel gennaio del 24 infatti c'è scritto sul potenziometro del volume che è il pomello del volume della chitaria c'è scritto memphis della squadra di di football se non mi sbaglio di baseball e sulla paletta sull'adstock c'è sta la mia firma figo è stato è stato veramente figo gianluca anzi ciao gianluca grazie e rilassi del supporto e salutiamo gianluca e lo andremo a cercare lo porteremo salottino anche lui perché questa cosa mi piace tanto sì lui è una bella testa mi piace ho visto che anche te però hai trovato una chitarra buttata in un cassonetto e hai tirato diverse 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 quella è la storia è la storia della mia vita lo sai mi ricordo sarà più più di più di dieci anni fa avevo questo diciamo seminario a cadenza quindicinale nella cittadina di tuscania e avevo questo laboratorio del centro aggregazione giovanile aveva una quindicina di ragazzi e ho chiesto a tutti se rimediavano una chitarra rotta la chitarra classica sai io penso che l'italia sia uno dei paesi con maggiore incidenza di una chitarra nell'armadio una eco il cavolo ce l'abbiamo un po tu ce l'abbiamo avuta un po tutti e la maggior parte l'ha lasciata nell'armadio l'ha buttata insomma e il laboratorio verteva proprio sul trasformare con 0 euro con una matita dell'ikea e con una muta di corde usate questa chitarra è una chitarra lap still e così è stato noi abbiamo fatto il concerto di fine anno che era una voodoo child di Hendrix fatta da un esercito di lap still che facevano anche le parti ritmiche utilizzando le casse acustiche appunto di queste guitare una bella storia per dire sì il video che tu hai visto è un po proprio stato il rifacimento di quello che mi è successo più e più volte che ho fatto già da piccolo perché io quando ce l'avevo 14 anni ho conosciuto virtualmente tramite la televisione tramite el per oxy bar di red droni ho conosciuto ben arper che mi fornì folgorò e io dissi proprio cioè lo devo fare anche io voglio imparare a fare questa cosa qui così è stato e dal giorno dopo cominciato a fare esperimenti a capì come si faceva purtroppo non c'era l'internet che c'è oggi che vai e cerchi e trovi qualsiasi cosa ed è fantastico questo però all'epoca insomma ho dovuto combattere un po ecco per capire immagino 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 perché anch'io non sono giovanissimo quindi io che ho imparato a suonare arrivavano tutti praticamente dal vinile c'è contavi e tu ripetevi come come un papagallino forse però sinceramente lo faccio ancora ancora oggi perché delle tab non è che mi fido tantissimo alcune sono fatte bene sì 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 però l'orecchio se lo sai usare è sempre la cosa migliore è vero lo dico anch'io perché magari a volte ascoltato nel disco il chitarrista fa un certo tipo di passaggio che nella tab non la trovi e se poi hai un vinile dove suonano in live quel passaggio nella tab magari non troverai mai ma certo 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 e quindi tu lo vuoi un po replicare se ti concerti visto che sei sempre in giro quanti ne stai facendo ne sto facendo parecchi abbiamo intensificato io parlo al plurale ma la realtà sono io l'artefice di tutto questo tutta questa cosa però sto spingendo parecchio sull'intensificare le attività live all'estero perché se ti devo dire la verità comunque qui in italia è difficile farne proprio una professione che ti porti ad avere uno stipendio reale no quindi uno si deve barcamenare tutto l'anno per cercare di riuscire a fare i live poi sostanzialmente a luglio agosto perché anche tutti quanti i festival in giro quelle con le date un po più fighe sono comunque riversati tra primavera ed estate ed è difficile per cui il mio lavoro mi ha portato però ad inserirmi sempre in contesti in cui c'era sia l'europa che l'america dietro l'angolo e io mi sono ficcato sempre detto proprio in francese perché ho sempre pensato che soprattutto per quanto riguarda il blues ed affini che il nostro è un territorio molto molto duro non è duro per gli americani non è duro per quelli che vengono da fuori che qui trovano un po l'america però per noi italiani è meglio che andiamo all'estero a suonare perché ci trattano bene valorizzano la nostra arte escono gli articoli di stampa senza che uno debba fare mille telefonate e mille lecchinaggi e che te lo dico a fare cioè ti porto un'esperienza se posso che è stata per me è stata per me è folgorante grazie a narcao blues che è uno dei maggiori festival blues italiani ma nella fattispecie della sardegna e grazie anche a gianni melis che saluto ringrazio tantissimo io ho fatto un gemellaggio con un festival molto importante in polonia che si era ma il sualki blues festival un festival in cui in cartellone c'erano gente come anna popovic e bernard ellison che insomma è stata una bella storia ho aperto il secondo giorno del festival facendo un concerto alle quattro e mezza di pomeriggio davanti a una platea di un paio di centinaia di persone non moltissime perché era la prima esibizione della giornata del feste il giorno dopo è uscito un articolo su blues online punto pl che è uno degli organizzatori di questo festival e anche che a questo canale molto seguito appunto che si occupa di blues di tutti quanti gli artisti che passano per la polonia sostanzialmente e scrive testuali parole ma alla rivelazione del festival alla rivelazione della serata è stato l'italiano andrea de luca un ragazzo devoto al blues che ha saputo affascinare un pubblico pur stando seduto perché mi pare che la parte finale dice proprio perché se hai un cuore puoi affascinare una platea puoi elettrizzare una platea pur stando seduto perché ovviamente io la lap la sono seduta poi suono la strato anche in piedi però la lap stile ovviamente seduto alla penarve è stata una grande soddisfazione è stata una grande soddisfazione per me ho fatto tante cose importanti qui in italia un articolo di stampa così non è mai uscito ma diciamo che allora il blues in italia è veramente molto sotto tono io infatti quando ho iniziato con questo canale ho iniziato un po come come tutti cioè recensire chitarre no e ho visto che ti che ti occupi anche di quello certo sì sono un facile endorsement per un negozio di strumenti musicali qua vicino a me siamo molto amici e io mi porto a casa le sue chitarre le promuovo le faccio vedere però poi mi son detto e ho guardato un po youtube e non ho trovato nessun canale italiano che parla blu cioè seduto certo e parla di blues e allora mi son detto ma io che amo questo genere musicale da quando sono nato da piccolissimo da sempre ma perché non lo posso fare io allora vado davanti lo stesso a fare le recensioni però ho iniziato a inventarmi il salottino blues beh ti dico andrea siamo partiti con un'intervista al mese oggi ce le ho tutte le sere bellissimo bravo complimenti vuol dire che funziona ma sì il canale chiaramente cresce molto lentamente perché essendo l'altro punto blues e di nicchia non è seguito come le cazzate magari che fanno vedere sui social no che giustamente i ragazzi guardano io non critico non giudico mai nessuno non è il mio carattere e quindi il nostro che è un po come jazz blues è molto di nicchia fa fatica che metto dentro quel follower che ogni tanto entra mi gratifica come se fossero mille ci credo ci credo guarda siamo sulla stessa barca io anche ho le stesse difficoltà è la stessa però tenacia nel perseverare perché comunque poi le cose se le fai di qualità arriva prima o poi arriva ci vuole tanto tempo ci vuole costanza tutti i giorni è un lavoro sì sì è vero è vero si sia un lavoro e senti tu qualche disco tuo allora io ho tre dischi fuori qualche singolo ma mi sto abbastanza dissociando dal digitale perché ho avuto dei problemi con un ultimo singolo che è stato levato dal mercato ci sono rimasto molto male sinceramente sì e sinceramente mi sono diciamo sono tornato a quell'idea di farmi i dischi per cavoli miei e vendermeli ai concerti per cavoli miei perché penso che allora non voglio dire che non farò più release sul digitale perché sarai fuori dal mondo e quindi non posso non farlo però se ci tengo particolarmente a qualcosa me la stampa me la me la vendo ci sono rimasto male per questo è sostanzialmente quello che è successo è che io ho scritto un pezzo cioè ho scritto un pezzo contro la il conflitto israelo palestinese che si chiama got to cry for peace è un pezzo che ha riscosso un successo inaspettato per un artista di nicchia come me però si dà il caso che raggiunte le 100 mila streams è stato levato dal mercato dicendomi che erano state utilizzate delle manovre di crescita del non autorizzate e che la tematica non era non rispecchiava i termini del regolamento di spotify infatti solamente spotify me l'ha tolto tutti gli altri digital ce l'hanno però ovviamente il successo l'avevo raggiunto con spotify tra l'altro avevo fatto un video completamente o quasi completamente con l'intelligenza artificiale e con tutto materiale preso da internet senza copyright quindi immagini scaricate sostanzialmente più dei sì disegni animati che io ho programmato l'intelligenza artificiale per per rappresentare la tristezza le atrocità della guerra nel volto dei bambini bambini che solamente guardano la camera e non sono bambini veri ovviamente ho usato l'intelligenza artificiale apposta tra l'altro ho avuto dei problemi anche su tik tok per lo stesso brano che anche lì mi hanno accusato di aver utilizzato dei mezzi di crescita a pagamento oppure non regolari che poi non è che non si possano promuovere le cose lo puoi fare come poi però succedono delle cose che sono più scomode delle altre secondo me questa è stata potrebbe anche non essere ma secondo me è stato per questo motivo qua quindi a ga to cry for peace è presente nel mio disco stampato per adesso in una tiratura di mille copie che potete trovare ai miei concerti ed è molto bello perché è un estratto di un live bellissimo che ho fatto il 25 marzo del 2023 allo studio miliam a roma live in studio con pubblico come si faceva negli anni 70 quando si facevano le session per registrare i dischi l'abbiamo fatto così è quasi tutto quel live li più appunto un paio di singoli registrati in studio tra cui questo qua che ti dicevo ecco quindi questo è il mio disco di punta di ora poi tutta tutto il resto della mia discografia andrea de luca spotify o i music apple music trovate i miei tre dischi qualche singolo anche con dembowman insomma un po di musica ad ascoltare mia c'è in giro in descrizione metteremo il link dove bello che andrà a vedere questa intervista cliccherà ti è verrà ma io queste cose qua non le capisco tanto ho visto che a bologna quando è venuto a ricletton si è presentato con la strato castro con la bandiera della pagina già sì sì abbiamo visto tutto io ho ammirato anche io quasi incinocchiato perché a parte essere un strepitoso fan di eric leptono io lo che lo dici infatti ho fatto seri sacrifici a prendermi la blacky e qualche me la tocca e quando l'ho visto salire sul palco con quella chitarra ho detto vabbè dai sei un dio c'è niente da fare vabbè mai visto anche il concerto che ha fatto per lo stesso motivo che c'è il dvd comunque il video da comprare ancora non l'ho preso deve essere spettacolare proprio quello sì ho visto qualche strato è stato fantastico per l'età che ha poi c'è ancora una voce stratosferica ancora spacca ancora il microfono è vero è vero e ho notato però tutte le volte che lo ascolto dal vivo tutte le volte che fa tears in heaven vi trema la voce ma è incredibile cioè dopo che sia incontrollabile quella storia la c'è certo però sai dopo tutti questi anni invece ogni volta che la fa l'ha fatta anche a bologna chiaramente in acustico e per chi conosce tutta la storia dietro chiaramente lo sente quella vibrazione la sente assolutamente sì sono d'accordo con te è fantastico è blues praticamente non si può dire ma certo 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 beh il mio disco preferito di clepton è from the cradle penso che il disco che mi ha chiamato la vita più di tutti sul blues sì ce ne sono veramente sì anche a me piace molto poi io vabbè non so neanche io quanti ne ho in giro alcuni doppi pensate c'è vabbè c'ho quello nero che lui è in piedi appoggiato alla blackie no ne ho due no ne ho tre scusa due in vinile e uno in cd vabbè e guarda se ti capita ricompralo sì io io pat garrett billy the kid di bob dylan l'avrò comprato tre volte ogni volta che lo vedevo no ma costa solo 5 e 90 o lo compro quella è una cosa che pure se lo regali hai fatto comunque un'opera di bene capito è vero è vero se ti tu i programmini per il futuro allora futuro prossimo è bello tosto perché parto il rigo in un piccolo club che un po riscaldare i motori per il festival che al giorno dopo invece ad asfurt in germania al centro della germania dove mi hanno reso protagonista della blues night il festival dedicato al blues di questa agenzia con cui ho iniziato a lavorare da due anni che si chiama la j h blues vibrations non solo torniamo da lì e poi la settimana dopo si arriva in germania nuovamente per un altro blues festival invece al break 63 di sarbrücken che è un po più su in cui dividerò il palco invece con un armonicista che dio mi devi scusare perché non ricordo il nome perché impronunciabile perché a tedesco ma è stato un armonicista che per tutta la sua carriera accompagnato il nostro amato rudirotta esatto facevano i tour insieme in nord europa e la cosa mi ha colpito parecchio perché io vent'anni fa avevo una strada bianca che non ho più firmata da rudi rotta ma no sì 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 esatto e poi dopo questa data riparto definitivamente per un po per l'olanda che un tour di dieci date che toccherà proprio in conclusione del tour da un festival blues fantastico che il festival del famoso locale di earth che si chiama debu silo debu sil non lo so come si pronuncia bene perché da c ma è un locale che viene calcato un palco che viene calcato da eric gales philip 6 gente top della gamma del blues e sono molto contento di partecipare a questo festival dividerò la serata con il vincitore se non mi sbaglio dell'intervention al blues challenge delle european blues challenge di due anni fa che sono olandesi se non mi sbaglio ed un altro gruppo sempre comunque di livello usciranno tra poco le comunicazioni dopo di che si torna si torna a casa per poi ripartire nuovamente in tour i primi di febbraio per un tour di oltre 20 date polonia repubblica cieca grazie alla mia conoscenza con il bassista del gruppo che ospita il figlio di gary moore nella band more place more che gira l'europa ho fatto una gem con loro sul palco di narcao quest'estate e questo bassista che anche la gente della band mi ha puntato e mi ha detto io voglio lavorare con te ed è stata una cosa tipo che il giorno dopo mi ha mandato già le idee le opzioni di tour da fare insieme quindi è questa cosa si è poi trasformata realmente in verità quindi non solo chiacchiere anche fatti e sono troppo contento di questa storia qui adesso insomma grande caspita complimenti grazie grazie lo apprezzo molto poi sei gary moore non è l'ultimo degli ultimi come si vuol dire assolutamente è molto trasversale ah caspita come blues ma scherziano sì 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 a me piace molto poi è molto armonioso su alcuni pezzi mi piace da morire sì 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 io è una domanda che faccio a tutti e piace poco ma la faccio perché piace poco anche a me e quindi le cose che piacciono poco è certo cosa ne pensi dei talent guarda ho fatto l'audizione di sei tu che sei tu che valess come tu sì che valess scusami non credo mi abbiano preso però la redazione ha apprezzato tantissimo mi hanno detto quasi che cosa ci stai facendo tu qui però la verità è che i talent comunque da che mondo è mondo dai talent escono dei personaggi di spessore questo è vero succede in america succede anche da molto prima che succedesse qui in europa in italia poi che fanno schifo è vero nel senso che che c'è tantissima monnezza che c'è immondizia che c'è che ci sono delle giurie che solitamente non hanno assolutamente competenze ma d'altra parte vogliamo parlare dei direttori artistici dei dei locali o dei festival in molti casi stiamo parlando della steve lo stesso rapporto no nel senso però ciò non toglie che diano visibilità a qualcuno quello che voglio dire è come l'intelligenza artificiale per dire no no è una cosa che potrebbe fare dei danni allucinanti oppure se messa in mano agli stupidi sì ma se messa in mano a quelli intelligenti forse funziona no quindi con i talent io faccio un po lo stesso discorso perché non me la devo prendere sta visibilità se me la offri io se passavo a questo talent avrei avuto sicuramente una vetrina maggiore avrei lavorato di più perché no non c'è niente di male ecco no la vedo così più o meno la vedo anch'io in questo modo è una cosa buona che ci siano perché se no oggi in italia è diventato molto triste non è più come una volta una volta magari c'erano dei talent show che giravano nel pub in qualche discoteca a sentire dei telescout scusano i tre show di sé che gironzolavano non so un nome a caso cecchetto Claudio cecchetto era uno di quelli che girava quello che sentiva se lo portava il radio lo faceva crescere oggi questa cosa diventa quasi sparita e quindi se non ci fossero i talent morirebbe completamente la cosa come dici tu giustamente c'è dietro dell'immondizia ma c'è sempre stata e a volte erano lì che cantano dice ma cavolo canta questo eppure era lì e quelli che i giudici se vogliamo chiamarli così ci sono anche e c'erano anche nei locali quando suonavo io andavi a parlare col proprietario del pub per andare a suonare questo non capivo una mazza di musica la mia cosa che ti chiedeva era quanta gente mi porti la storia dalle nostre vite ho smesso di andare a suonare nei locali ma sì ma poi alla fine guarda io i locali piccoli non li faccio almeno poi qui in Sardegna è un po' difficile ti devo dire la verità cerco di concentrarmi sui festival che ne abbiamo diversi belli in Sardegna quindi quelli vale sempre la pena farli e poi qualche qualche locale c'è però di certo non puoi fare un'attività live chissà quanto fruttante diciamo è tosta è tosta molto tosta giusto una birretta hai capito sì fantastico poi insomma io ho due figli è 43 anni e sto in giro da quando ce n'ho 16 quindi insomma localetti ne ho fatti immagino se capitano le cose rilasce ti prepari e le vai a fare qual è il problema? certo 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 beh insomma io non ti voglio trattenere oltre perché già ti ho non ti preoccupare è un piacere chiacchierare con un amico bluse che cavolo è che capita non capita spesso beh è un po' difficile anche se sì mi capita abbastanza spesso certo è sempre quando sto in giro però beh è chiaro è chiaro è chiaro senti una domanda che faccio anche agli altri qual è il tuo strumento preferito in assoluto? da suonare o preferito in assoluto da ascoltare? eh io dico sempre da suonare però da ascoltare non sarebbe meglio da suonare? guarda da suonare io credo che la Stratocaster sia la cosa che mi ha cambiato la vita mi ha cambiato la vita Hendrix mi ha cambiato la vita Steve Ray e Harry Clapton sono quelli che poi più di tutti maggiormente imbracciavano sempre una strada quindi non a caso poi ovviamente la lapsteel la lapsteel vitale è non posso dire neanche una è la prima e una è la seconda sono due cose così diverse che posso dire le prime entrambe sono due macchine da corsa solo che una fa rally e l'altra fa Formula 1 si esatto esatto fanno due cose che poi possono lavorare insieme questo è fantastico e poi la batteria ah io mi ricordo suono anche la batteria? si non vado a fare le serate in giro perché diciamo che sempre qui non c'è granché da poterle fare però in generale preferisco che chi ha dedicato una vita ad uno strumento vada a fare i concerti invece chi lo fa come me magari si registra i dischi i pezzi da solo oppure delle produzioni comunque sicuramente avere la consapevolezza di come si suona e come dovrebbe suonare un altro strumento nella produzione musicale ti dà una marcia in più totale anche per interfacciarti con gli altri strumenti con gli altri musicisti se tu capisci anche lo strumento con cui stai suonando l'intesa sale ecco è necessariamente così uno strumento come si dice complementare fa sempre comodo sì questo sicuramente ma guarda io qui a Salottino ho avuto la fortuna di avere intervistare Andrea Braido certo è lui è un altro matto ma sì sì è un veramente bravissimo esagerato e anche lui gli ho detto ma senti il tuo primo strumento io pensavo chitarra sai sai alla fine anche se l'ho studiato Braido sapevo che gironzolava in altri strumenti ma pensavo che il primo fosse stato proprio la chitarra e mi diceva guarda il mio primo strumento la batteria ecco ve lo era la chitarra no? quella devi fare un po' dopo infatti bravissimo batterista sì lui è un batterista fusion suona proprio tanto nel senso mamma mia suona tantissimo non lo diresti mai che non la suona come primo strumento no? eh infatti cioè sai io poi quando eravamo ragazzi noi l'avevamo conosciuto proprio come chitarrista e poi studiandolo perché è un personaggio che mi è sempre piaciuto ho scoperto che suonava la batteria però quando hai fatto la domanda come adesso tu dici l'altro strumento è la batteria mi sa che devo iniziare a studiare la batteria la batteria fa sempre bene io guardo anche i miei allievi li faccio passare un po' per la batteria nel senso vieni a fare il ritardo vieni a fare l'up still quello che vuoi però io dietro la batteria ti ci metto ti voglio fare interiorizzare il beat è fondamentale almeno io lo trovo fondamentale ecco ci sono d'accordo sono d'accordo quindi tu hai anche una sorta di scuola di musica? direi che faccio lezioni private per quanto riguarda il face to face poi ho l'up still school.com che è una piattaforma online dedicata interamente alla chitarra l'up still interamente in italiano l'unica al mondo e dove puoi acquistare un per adesso puoi comprare un metodo che si chiama da zero al blues che sono dieci video anche molto brevi che ti insegnano appunto a partire proprio dalla chitarra dall'up still da zero ad arrivare a fare un blues col fast forf in dodici battute del classico blues alla Chicago blues bello oltretutto fornisco tantissimo materiale gratuito che è veramente tanto perché se tu ti iscrivi solamente facendo il login semplicemente fornendo la tua email registrandoti gratuitamente potrai scaricare il mio primo ebook che appunto si chiama impara a suonare la chitarra l'up still volume 1 che è un libro di 60 pagine che io ti regalo se tu ti iscrivi al mio sito ecco e poi ovviamente è l'attività di post di ogni giorno quotidiana da tre anni in cui appunto tutti i giorni io posto un contenuto relativo all'up still che sia semplicemente l'up still suonata su immagina le basi su soli eccetera eccetera e poi qualche cosa anche parlata come sto facendo io adesso con te con i sottotitoli carino insomma un lavoro a pieno regime ecco questo qui dell'editing è tosta penso che non lo fai da solo sì sì no tutto da solo tutto da solo certo io faccio un video al giorno da tre anni guarda se tu vedi il mio mac portatile sulla scrivania è sommerso dagli hard disk ne ho nove collegati tutti insieme e sono tre anni di lavoro tutti là dentro eh immagino e poi faccio dei video di alta qualità insomma anche perché ho i tuoi video ho avuto l'esperienza i tuoi video sono fantastici grazie mi fa piacere che qualcuno se ne accorga perché spesso invece la differenza non viene neanche vista no? invece io ce la metto tutta perché mi piace proprio nel senso no 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 è una mia passione farli belli no no l'ho visto ho visto perché allora chi è comunque chi mastica un po' come me certo che cerca di crescere su youtube sa benissimo quanto impegno ci si mette dietro per fare un video perché un video di dieci minuti quindici minuti non è solo quello poi dietro c'è tutto un lavoro allucinante l'editing mettere le musiche e tutto il resto c'è tante ore di lavoro se si vuole far bene se si vuole che il video venga fuori bello e quando ci si impegna così tanto e si va a vedere altri video come i tuoi è quando una cosa è fatta bene cioè il video fatto col telefonino ok oggi ci sono telefonini incredibili e va bene però poi quando dietro non c'è solo il telefonino ma c'è dietro qualcos'altro e insomma si vede come chi fa il nostro mestiere si vede esatto esatto infatti ti volevo fare i complimenti anche per lo studio che è bellissimo anche qua fatica e beh ci rivedo ma è giusto no no dai no pain no gain eh bravo ti ringrazio perché anche qua io ci tengo ci tengo tanto avere il mio angolino fatto bene con le giuste luci eccetera eccetera e anche qua ci impegnano tempo soldi eccetera eccetera però dai poi ci sta ci sta è giusto ci hanno i risultati bene bene Andrea io sono molto felice di averti con insomma di persona anche io anche io molto certo speriamo di vederci di persona intanto vengo dalle tue parti sono sicuro eh bene bene guarda mandami un messaggio mi faccio mi faccio trovare di sicuro contaci certo in descrizione io metterò tutto il tuo repertorio non so se mi basterà tutta la pagina della descrizione farò un to be continuo ed eh fai sì sì oppure oppure a grandiline vai tranquillo certo ho visto che veramente hai tanto va bene io ti lascio andare a riposare perché ti ho già strappato via è stato un piacere veramente grazie Andrea grazie ancora buonanotte grazie a te un saluto al saluttino e viva il blues